Oggi parliamo di prevenzione e genere. Perché? Perché nel 2018 il Ministero introduce la legge sulla medicina di genere, intesa come medicina delle differenze legate al sesso, quindi in particolare i cromosomi sessuali, gli ormoni sessuali, ma medicina anche legata alle differenze di genere, in particolare riferite quindi alle differenze socio-culturali e ambientali. Perché parliamo di medicina di genere nella prevenzione cardiovascolare? Perché ci sono delle differenze, differenze che vedono la donna con un profilo di rischio cardiovascolare ben diverso da quello che può essere il profilo di rischio cardiovascolare dell'uomo. Si pensi ad esempio che nella donna l'infarto del miocardio si palesa con un dolore addominale come sintomo, primo sintomo di un infarto del miocardio e si pensi ad esempio che le complicanze dopo un ictus ischemico o emorragico in termini appunto di esiti, di invalidità, risultano essere maggiori nella donna rispetto al maschio. Così come si pensi agli effetti collaterali, agli effetti avversi di alcuni farmaci che vengono utilizzati per l'ipertensione arteriosa, ad esempio una categoria, gli asci inibitori, determinano più frequentemente tosse come effetto collaterale nella donna rispetto al maschio e questo porta ovviamente come sintomo fastidioso alla sospensione di quel farmaco. Ma allo stesso le statine, altra categoria di farmaco che viene utilizzata ad esempio per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue che possono determinare nella donna più frequentemente che nel maschio dolori muscolari e anche ciò porta ovviamente la donna alla sospensione del farmaco. Questo quindi può aiutare anche a sviluppare un rischio che tende ad essere correlato non solo alle diverse fasi di vita della donna che variano infatti da quello che è il periodo puberale al periodo della gravidanza, al periodo pre-menopausale, per poi equiparare, addirittura raddoppiarsi come profilo di rischio nella donna nell'età posto-menopausale rispetto al maschio. Quindi qual è l'obiettivo di questo incontro? Quello proprio di comunicare, quello di far arrivare alla popolazione, alla cittadinanza la necessità di fare prevenzione. Prevenzione che deve essere adeguata e appropriata in merito a quelle che sono le differenze, le differenze di sesso, le differenze di genere. Pertanto è fondamentale che la donna debba sapere, debba conoscere che il suo profilo cardiovascolare varia, varia se è nella fase pre-menopausale rispetto a quella, ad esempio, post-menopausale. Così come il maschio deve sapere che nell'ambito del proprio profilo cardiovascolare spesso tende ad avere una mortalità per morte improvvisa maggiore rispetto alla donna. Pertanto è importante aderire ai programmi di screening, aderire ai programmi di screening tenendo conto delle differenze, delle differenze di genere e delle differenze di sesso.